Buongiorno cari amici, buongiorno anche oggi, siamo in aperta campagna e la storiella di Dharma che vi voglio raccontare si intitola Lo scambio dei bagagli della sofferenza e racconta di un capovillaggio che molto spesso sentiva ripetere delle frasi ai propri abitanti simili a se solo potessi scambiare la mia sofferenza con una qualsiasi altra sofferenza lo farei immediatamente, così abbastanza stanco di sentire queste esternazioni raduna tutti gli abitanti e dice benissimo abitanti ognuno di voi prenda la sofferenza che proprio non sopporta ne faccia un fagotto e lo scambi con qualsiasi altro abitante. Gli abitanti sono piuttosto attoniti ma obbediscono e quindi prendono la sofferenza che reputano insopportabile la inseriscono all'interno di un bagaglio e nel farlo ovviamente si vedono molte lacrime, si vede molta molta sofferenza. Al che quando arriva il momento di scambiarsi i bagagli nessuno è disposto a scambiare qualcosa di conosciuto per qualcosa di ignoto e quindi ognuno si tiene stretta la propria sofferenza. Questa storiella apparentemente semplice e banale ci racconta due cose prevalentemente. Ognuno di noi vive la propria sofferenza in maniera del tutto personale e di conseguenza non è propriamente giusto giudicare la sofferenza altrui e né tanto meno la propria. Secondariamente ogni persona che incontriamo sta vivendo la propria battaglia personale contro una sofferenza che noi non conosciamo quindi qualsiasi persona che incontri cerca sempre di essere gentile esattamente come vorresti che gli altri lo fossero nei tuoi confronti. Ciao amici!